Gli agenti della Polizia di Stato delle Volanti di Reggio Calabria hanno tratto in arresto due uomini colti nella fragranza del reato di detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina e del relativo munizionamento. In particolare gli operatori impegnati nell'attività di controllo del territorio presso il quartiere Tremulini notavano un uomo disfarsi velocemente di una busta di plastica rientrando repentinamente all'interno di un immobile. Gli agenti insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo hanno deciso di verificare il contenuto della busta rinvenendo al suo interno un fucile Calabro 12 a canne mozze privo di segni identificativi e 38 cartucce di cui due a palla unica. Il controllo è stato esteso allora all'interno dello stabile dove è stata accertata la presenza dei due uomini italiani classe 90 e 93 entrambi con pregiudizi penali e di polizia. Al termine dell'attività gli stessi sono stati arrestati e l'arma con il relativo munizionamento dopo la repertazione avvenuta a cura del personale del gabinetto regionale di polizia scientifica è stata posta sotto sequestro. All'esito dell'udienza di convalida il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per uno dei due arrestati e gli arresti domiciliari per l'altro.